Aiutare 10 donne vittime di violenza a inserirsi nel mondo del lavoro. È questo l'obiettivo di Conoscere, Apprendere e Agire, progetto realizzato dall'Agenzia Formativa di ConfCommercio in collaborazione con l'Associazione Luna e l'Associazione Consulenza per la Famiglia, grazie a un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Questa occasione per noi è molto importante perché ci permette di aiutare le donne nella fuoriuscita della violenza attraverso la rappresentazione di risorse nel mondo del lavoro. Il progetto che ci ha proposto la ConfCommercio è proprio adatto a fornire alle donne quelle piccole risorse che servono per aumentare l'empowerment e l'indipendenza economica e lavorativa. Noi abbiamo iniziato la nostra collaborazione con ConfCommercio in tempi di pandemia e come associazione occupandoci di prevenzione chiaramente è un progetto adatto perché ogni volta che una persona viene in consulenza per un motivo in realtà poi porta tutta una serie di criticità, di smarrimenti, di disorientamento. Quindi noi lavorando sulla prevenzione, questo lo vediamo veramente un valore aggiunto per dare la possibilità alle nostre persone, alle nostre donne, di poter reinserirsi nel mondo del lavoro. Il percorso avrà una durata di 40 ore e prevede anche colloqui individuali dedicati all'orientamento personale.